Come hai detto, qual è la definizione? Follia. Follia. Sì, sì. Follia. È fare, rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora e poi ancora. Sperando che qualcosa cambi. Questa è follia. Il primo che mi ha detto questa cosa. Non so, credevo che mi prendesse per il culo e allora boom, gli ho sparato. Il fatto è... Che... Che aveva ragione. E poi ho iniziato a vederlo ovunque guardassi. Ovunque guardassi questi idioti di merda. Ovunque guardassi e rifare la stessa cazzo di cosa. Ancora, 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 ancora. Pensando, stavolta sarà tutto diverso. No, 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 dai. Stavolta sarà tutto diverso. Mi spiace. Ma non mi piace il modo... ...in cui mi guardi. Ok? Hai un cazzo di problema nella testa. Ma credi che ti prendo per il culo? Fa un culo! Ok? Fa un culo! A posto, bello. Ora mi calmo. Ora mi calmo. Il fatto è che... No? Il fatto è che ti ho già ucciso. Una volta. E non è che io sono un cazzo di pazzo. È ok. È soltanto acqua passata. Ti ho mai detto qual è la definizione? Di folliea. Oh, cazzo. No, no, no. Affattiti! Ne ho abbastanza di quel bastardo. Col cazzo che fa fuori i guerrieri. Non è spazzio che vediamo. Pag. Affattiti! Un po' L'elicottero Forse è lì che ha portato i guerrieri L'elicottero Teccate il bastardo Buono la base L'elicottero 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 Forse è lì che ha portato i guerrieri L'elicottero 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 Corre verso l'elicottero! Non fatelo arrivare all'elicottero! Non hai scanto! Non si mette sullo strutto! Non si mette sull'elicottero! Non si mette sull'elicottero! L'helicottero. Mi devo muovere. Decolla! Ok, ok! Portaci su! Dai, dai! Ok, ora. Oh, no. Ti ho mai detto la definizione di follia?